Siamo un milione, a dirlo all'apertura del Family Day a Roma, il portavoce del comitato Difendiamo i nostri figli, Massimo Gandolfini. Con questo evento ha spiegato chiediamo che si tuteli e si rispetti la famiglia fondata sul matrimonio e si ribadisca il ruolo centrale dei genitori. Rigettiamo con forza il tentativo di infiltrare nelle scuole progetti educativi che mirano la destrutturazione dell'identità sessuale dei bambini. Sono teorie senza basi scientifiche. Ci troviamo a dover fare i conti con l'ennesima iniziativa omofoba di censura condotta ai danni dell'educazione laica, all'identità di genere e alla sessualità. Critica Ilaria Iapadra, responsabile dell'area tematica LGBT dell'Unione degli Studenti.